ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video piccolo cambio di set per questi video futuri perché in ufficio non riesco ad andare quindi vi beccate il mio salotto in questo video vedrete una serie di unboxing ho fatto un ordine piuttosto grosso e quindi volevo condividerlo per l'appunto con voi spero che possiate trovarli interessanti ci sono alcune cose che sono che ho comprato per sfizio personale altre cose invece che saranno molto utili per il per il canale quindi spero che possa interessarvi ci vediamo alla fine del video dopo che avete visto quello che ho comprato ciao 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 avete visto delle riprese quindi fatte in maniera diversa perché le cose sono arrivate un po' alla volta le cose che interessano di più a voi diciamo così saranno appunto il cavalletto che sosterrà la mia canon che è arrivata con l'ultimo unboxing e anche la scratch map la mappa quella da grattare che andrà in ufficio dove in genere registro i video alle mie spalle quindi farà parte del nuovo set appunto in cui registrerò i video in più mi piacerebbe farvi vedere quello che farò con la cover per il cellulare trasparente diciamo un piccolo progetto fai da te il resto sono cose diciamo che ho preso appunto perché mi servivano più o meno io spero che il video vi sia piaciuto vi ricordo che in descrizione trovate il link per vedere appunto le cose che ho comprato se siete interessati se volete magari una recensione del cavalletto o qualcosa del genere lasciatemi un commento lasciatemi lo scritto in un commento se il video vi è piaciuto potete lasciare un like se volete vederne altri con la sottoscritta potete iscrivervi al canale e magari anche cliccare sulla campanella in maniera tale da non perdervi nemmeno un video e da appunto ricevere la notifica quando ne carico uno nuovo se siete curiosi di vedere quello che combinerò in futuro potete seguirmi sui social e trovate tutti i link in descrizione noi ci vediamo al prossimo video have a nice life grazie 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 grazie